Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. NAB 2024 si è concluso qualche giorno fa. Un sacco di novità interessanti anche per quanto riguarda il mondo degli smartphone, ve ne voglio parlare un po' in questo video. Settimana scorsa vi ho parlato di un cage che specialmente per il mondo Android dove si fatica a trovare è molto molto azzeccato in quanto non solo ben fatto, non solo completo nella sua semplicità di tutto quello che serve, ma anche adattabile e universale nel vero senso della parola a qualsiasi modello mantenendo una dimensione fit ridotta e realmente su misura. Vi lascio il video in descrizione, andatelo a recuperare se non l'avete visto. In questo video voglio partire invece dal software perché sempre nel panorama Android un'evoluzione importantissima è quella legata a un'app, ovvero l'app di Blackmagic che pare debutterà anche su Android, anzi è sicuro ma non si sa ancora con che tempistiche. Questa cosa mi ha reso estremamente felice ma dall'altra mi ha scatenato qualche dubbio e adesso voglio farmi una chiacchierata con voi per capire quali possono essere i pro e i contro di questa scelta. Prima come sempre ricordo di seguirmi anche su Instagram, TikTok per vedere i miei lavori, i miei lavori che in particolare trovate sul sito www.vincenzodecaro.com, li potete approfondire un po' di più il mio lavoro nel mondo della direzione della fotografia e nel mondo della fotografia e filmmaking da smartphone e trovare preset Lightroom dedicati al mondo degli smartphone e delle LUT dedicate al mondo della ripresa video con iPhone, Apple Log e soprattutto con Xiaomi introvabili, sono forse l'unico ad averle sulla rete, Xiaomi Log adatte a qualsiasi modello di Xiaomi che supporta la modalità Log per sfruttare al massimo le capacità video dei vostri smartphone e dei vostri super top di gamma per la quale immagino abbiate speso un po' di soldini e quindi vale la pena dare un'occhiata. Vi lascio il link in descrizione. Tornando a noi, chiacchierata su Blackmagic che debutta nel mondo Android. Ovviamente il discorso è sempre il medesimo. Bellissimo, Blackmagic è un brand di cui sono un po' fanatico ragazzi, non ve lo nego, noi in produzione abbiamo fatto a suo tempo, sei anni fa, la scelta di affidarci esclusivamente a questo brand per il nostro parcomacchine. Questo nel bene e nel male, perché sono delle cineprese adatte a un certo tipo di approccio, di lavoro, che si differenziano non di poco da tutto quello che è il mondo delle mirrorless, anche se adesso il confine diciamo con Sony soprattutto si è fatto molto molto sottile tra le due, ma diciamo che coprono altre necessità e sono molto scoperte invece sotto altri punti di vista. Quindi è un po' una scelta fatta di tante cose che va oltre la preferenza della pasta, dell'immagine, dello stile, del feeling, dei menù, di tutta una serie di robe. È un brand che ha sperimentato tanto, quindi ecco questa è la cosa che mi ha fatto dire, ci sta che approdino anche su Android. Su Android chiaramente è un po' un turn all'otto, perché mentre su iPhone, come per tutti, loro si possono concentrare, a parte su una base di partenza fortissima, perché iPhone lato video sappiamo che fa già molto bene di suo a livello software, con tutti i limiti del caso dell'App Stock. Comunque Apple ha un'esperienza importante e riesce a portare dei file e un feeling e una continuità e tutta una serie di cose che rendono piacevole effettivamente girare con iPhone. Su Android è tutto un altro mondo. Filmic Pro ha colmato tante lacune, ma è anche lì a ricordarci che sì, il telefono Android può essere sfruttato alla grande lato video, anch'esso, e quando si hanno hardware pazzeschi così questa roba può fare solo che piacere, ma il mondo Android non è molto facile da digerire per le app di terze parti. Tant'è che Filmic Pro, mille modelli, mille brand, ogni modello di ogni brand ha problematiche e vantaggi differenti. Cioè ha una serie di limitazioni, almeno questa è stata la mia esperienza fino a quando l'ho utilizzato, che sono sempre un po' all'interno all'otto. E io mi auguro che Blackmagic trovi la formula magica, non so come, magari piuttosto che si dedichi soltanto a un numero limitato di modelli o che faccia degli accordi magari con soltanto alcuni brand per alcune robe esclusive, per delle lavorazioni esclusive. Non lo so quale può essere la formula magica, ma spero che insomma riesca a portare quella serenità, continuità, sia sul telefono, tra le ottiche, ma anche nel tempo, che non si perda poi con i vari aggiornamenti e con i modelli nuovi questa cosa, per far sì che diventi un'esperienza realmente piacevole per chi ricerca quell'approccio un po' più professionale per l'appunto di ripresa con lo smartphone, girare video anche su Android. Cosa che per ora, ni, e lo potete capire bene recuperando il video che ho fatto dedicato a Xiaomi 14 Ultra e la nostra esperienza sul documentario in Lapponia. Non so, sbloccare il log su tutti i sensori, farlo con cognizione di causa, quindi magari un log proprietario di Blackmagic pensato ad hoc per alcuni super top di gamma, non lo so se questa cosa può esistere e funzionare. Continuità in termini di funzione, quindi che non ci sia quella roba del tipo in 4K, 25 fps, con questo profilo giri solo sul sensore principale, su quest'altro no, insomma un po' allineare tutto quello che su tutti i modelli Android in realtà è molto disordinato, al giorno d'oggi almeno non ho avuto esperienze troppo positive in questo senso, e riuscire in questo modo magari a sdoganare anche il mondo Android all'attenzione di altri brand di terze parti. Cosa che il NAB ci ha dimostrato e sottolineato ancora una volta, però adesso è esclusivamente dedicata ad iPhone e le ragioni secondo me sono più che valide, ve le ho raccontate poco fa. Sono state presentate robe molto interessanti per iPhone, mi voglio concentrare su due brand in particolare, il primo è Tilta, chi lavora in questo settore lo conosce benissimo, e su iPhone non si sono risparmiati, hanno sfornato questo Kronos, mi sembra si chiami, non mi ricordo, comunque un cage pensato su misura per iPhone, che è super completo, grip, porta filtri, ventola di raffreddamento, supporto per l'SSD e soprattutto un hub. La grossa criticità degli smartphone è la non presenza di ingressi per andare a interfacciarlo con altre attrezzature, con un hub ben fatto e la Type-C di iPhone che funziona divinamente sotto questo punto di vista, con grande facilità in un ecosistema dove il tutto si fa anche poco invasivo e difficile da rigare, monitor, microfoni, appunto ventola piuttosto che SSD, follow focus addirittura, perché con Blackmagic possiamo far lavorare un primo assistente, un focus puller con il fuoco remotato, praticamente come facciamo con una cinepresa, e sembra dalle immagini con grandissima facilità. Vi consiglio un canale sotto questo punto di vista, se siete curiosi di fuori del mondo Apple, quando fanno le loro superproduzioni, di vedere una produzione sperimentare, quantomeno con iPhone a livello super pro sul set, questa produzione si chiama Strada, è una produzione credo, è un canale YouTube che ho scoperto da molto poco, e fanno dei contenuti interessanti sotto questo punto di vista, sperimentano anche con i supporti di Bisgrip, mettono lenti anamorfiche su iPhone piuttosto che, insomma tutta una serie di cose che sono curiose, ad oggi sono curiose, e il mondo del filmmaking, se vi devo fare una riflessione personale mia, è ancora tanto una forzatura su smartphone, e sia ben chiaro, io parlo di questo da anni sulle mie pagine, sul mio canale ho deciso di dedicarlo al mondo degli smartphone, e sono il primo quando qualcuno mi scrive ma a chi scatta e andrò con uno smartphone, ma a chi utilizza uno smartphone per anche dei lavori personali importanti, ma sono il primo a dire no, attenzione, non è così, ci sono tutta una serie di ragionamenti che secondo me portano lo smartphone ad avere perfettamente senso nel catalogarsi, non come sostituto ovviamente della macchina, della camera, ma come alternativa e come scelta in alcune casistiche, o come anche rimedio supervalido, ripiazzo supervalido in alcune casistiche, è una roba che sta crescendo, che crescerà attenzione, perché la fotografia ragazzi a livello tecnico, laica è lì a dimostrarcelo con le sue camere, ma è qualcosa di estremamente semplice, che deve essere estremamente minimal, chiaro che questa cosa si sposa con un certo genere, e con certe necessità, ma per l'appunto non sono poche e lo smartphone si, come dire, non si snatura nell'avvicinarsi a questi mondi. Sulla questione filmmaking professionale invece è un attimo che appena abbiamo due necessità in più dobbiamo fare 3.000 cose in più per coprirle con uno smartphone. Rig, aggiungi l'accessorio, aggiungi il monitor, l'assistente deve vedere e bisogna muovere il fuoco e devo coprire un certo tipo di linguaggio, quindi serve il gimbal piuttosto che una macchina a mano, vai a capire. Poi lato software posso avere 6.000 necessità diverse in base a quello che devo ottenere, e il log, e il prores, e la color, e le lat. Insomma, sia a livello hardware che a livello software il filmmaking è qualcosa di... ecco, che tecnicamente è molto più complesso, ovviamente, e quindi io lo smartphone lo vedo ancora tanto una forzatura. Noi l'abbiamo usato sui set, abbiamo fatto delle produzioni, chi mi segue lo sa, per cortometraggi, magari per campagne di lancio, per Xiaomi, in tempi molto meno maturi. Abbiamo iniziato con lo Xiaomi 11, set piccolissimo, super figo, super soddisfacente, divertente, 12 Pro, abbiamo fatto poi l'11 Ultra, adesso il 14 Ultra, insomma, un po' ci abbiamo giocato, e sì, lo crei l'ecosistema intorno allo smartphone, e sì, come per la fotografia, girare con smartphone ti dà degli stimoli diversi. Anche su un set, diciamo, di un cortometraggio studiato, per benino a tavolino. Comunque, quando sei lì, hai sempre quella marcia in più, sotto un certo punto di vista, perché è un accessorio estremamente versatile, piccolo, facile, e, si sa, insomma, almeno secondo me, i limiti poi, di immagine, di hardware, ti costringono, a inventarti delle cose. Vedremo cosa ci riserverà il futuro, Tilt si è fatta avanti, in maniera aggressiva, ci sono produzioni come questa strada, che vi ho accennato, che iniziano a giocarci su, e quindi vedremo un po' che cosa succede. La seconda, per tornare alle novità del NAB, ma concludo qui, perché sono queste quelle che mi hanno colpito di più, è legata ad Atomos, che ha creato un software, e un piccolo hardware, che rende praticamente iPhone, un video assist a tutti gli effetti, con la possibilità di registrare in ProRes, credo solo fino al Full HD, per ora, una copia del girato, che stiamo effettuando con la nostra camera, quindi di fatto va a sostituire, un monitor video assist, con registrazione interna, e questa roba qui mi ha colpito, l'ho trovata interessante, perché mi è sembrata molto smart, molto leggera, molto facile, di facile applicazione, e sul set, ecco, questo lo vedo come un utilizzo molto naturale, per lo smartphone, qualora, per qualche motivo, poi in realtà siamo sempre lì, non dovessi avere un video assist, o dovessi avere bisogno di una copia in più, non lo so, per qualsiasi motivo, insomma, mi è sembrata una roba veramente utile. In sostanza, questa chiacchierata per dirvi cosa, nel settore del filmmaking, da smartphone si smuovono, le cose si smuovono, sia lato software che lato hardware, pare ci siano, insomma, delle buone speranze, anche per il mondo Android, vedremo, il quesito rimane, ovvero, se realmente, come un po' sta succedendo con la fotografia, lo smartphone troverà, una qualche sua collocazione, nel mondo video, che non sia quella che ha già, perché per carità, puoi girare in ProRes, puoi girare in 4K, puoi girare per Benino, e quindi, fare una storia Instagram, un po' più professionale, fare un reel, fare dei contenuti rapidi, per delle aziende, già con lo smartphone, lo si fa. Andare oltre, capiremo, capiremo, se arriverà il momento, in cui, davvero, lo smartphone, potrà, sempre, in alcune casistiche, così come avviene con la fotografia, essere un'alternativa, valida, senza, che i limiti, diciamo, vadano a intaccare, in maniera davvero pesante, tutta l'experience, sia pratica, che, di risultato finale. Per questo video è tutto, noi ci vediamo prossima settimana, con un ultimo consiglio, parleremo di luci, sempre legate al mondo, dello smartphone, poi ci sarà una piccola pausa, perché volerò in Marocco, per una vacanza, ma anche un piccolo, lavoro, e parleremo tanto, di kit fotografico, di Xiaomi 14 Ultra, a distanza di un po', di tempo, vi porto il video, con la mia esperienza, voglio prima, farci proprio un lavoro, devo farci un reportage, e capire bene e meglio, come funziona, anche in certe situazioni, e poi ve ne parlerò. Noi ci vediamo alla prossima, e buon weekend.